Cari telespettatori, oggi ci troviamo all'auditorium Fiera della Pesca ad Ancuna, dove tra poco avrà inizio l'ottava assemblea elettiva regionale della Confederazione Italiana Agricoltori. Dunque, dopo gli interventi delle autorità e dei vari invitati, verrà eletto il nuovo presidente della CIA delle Marche. Il 45esimo anno di presenza nell'organizzazione, ha detto che anche il gioco di squadra è stato fondamentale e avete reso grande questa confederazione. Sì, diciamo che la mia vita l'ho passata all'interno di questa organizzazione, l'ho costruita insieme a una squadra, perché è stata costruita a dicembre del 1977 in poi, e con una squadra siamo riusciti veramente a farla grande. Siamo partiti con tanta voglia, continuiamo ad avere tanta voglia di far crescere questa organizzazione per far sì che i nostri soci abbiano almeno delle risposte che si attendono. Spesso e volentieri riusciamo a dargliele, altre volte no, ma non dipende sicuramente da noi, non è mai di peso, ma è di peso spesso e volentieri dalle scelte dei governi. Ha sottolineato più volte dunque questa unità, ad oggi quanti sono gli iscritti nella regione? Nella regione siamo quasi 30.000, siamo 29.870, adesso non so di preciso, quindi è una grande organizzazione, è un'organizzazione che nasce storicamente nel 1977, come vi ho detto, ha avuto diversi fasi, da Ciccia è passata a Cia e quindi quello è stato proprio un cambio, siamo passati dalla mezzadria all'affitto e quindi con gli imprenditori, c'è stata un'evoluzione nella storia, ma anche da un punto di vista dei servizi per l'agricoltura è cambiato il mondo, come sta cambiando velocemente in questo periodo. Noi abbiamo solo un interesse, l'interesse è quello di far sì di rappresentare l'agricoltura e gli agricoltori, soprattutto i nostri soci, su questo non c'è dubbio, perché siamo proprio un'organizzazione che rappresenta degli interessi, a noi poco ci interessa se uno appartiene a una corrente politica, a una forza politica o un'altra, quello che ci interessa è riuscire a dare delle risposte tramite le nostre azioni sindacali, ma anche le opportunità con i servizi che la normativa ci dà per riuscire a farli crescere, per far sì che tutte le aziende possano diventare sostenibili, da quelle di pianura, quelle di collina, quelle di montagna, le quali sono chiaramente le più a rischio e le più in difficoltà. Anche oggi si guarda al futuro con il cambio al vertice. Sì, diciamo che in questa tornata, diciamo, assembleare cambia tutto il vertice delle marche, cambiano tutti i quattro presidenti, sono cambiati un direttore, ne cambierà un altro, diciamo che c'è un rinnovamento, ma è un rinnovamento che qualcuno definisce, lo definisco anch'io, che dovrà andare sicuramente nella continuità. Sono stati dei periodi sicuramente difficili tra la guerra, il caro Prezzi, insomma ci sono tante battaglie ancora da portare avanti, ma come ha sottolineato lei, tante imprese che stanno soffrendo e sono addirittura in ginocchio. Sì, il momento è particolarmente difficile, lo è per tutti, in particolare per le aziende più piccole, per quelle che hanno più difficoltà e in particolare per quelle delle aree interne, che hanno avuto sempre una capacità reddituale inferiore, che fanno più fatica a riorganizzarsi perché non hanno spazi, perché hanno un'agricoltura difficile, molte volte più costosa di quella di pianura. Quindi noi a queste aziende, quelle delle aree interne del nostro paese, collinari, molti anni dobbiamo dare sostegno e assistenza, non possiamo permetterci di perdere un'agricoltura che è l'emblema della qualità, della tenuta territoriale, del paesaggio italiano, che è un elemento di vantaggio per tutti, soprattutto per il turismo, per la ristorazione e per tutto quello che fa grande il Made in Italy italiano. E come ha detto non dovete essere sempre accusati perché ci sono tante problematiche dietro. Sì, noi siamo accusati da incompetenti perché non sanno quello che facciamo e quindi parlano un po' avanti. La realtà è che noi siamo succubi di un sistema non governato, dei selvatici, dei cinghiali in particolare, degli ungulati e anche dei lupi in alcuni casi. E dover affrontare da soli, con armi spuntate, una situazione così complicata, per effetto del non governo della fauna selvatica da parte delle istituzioni è un'ulteriore mortificazione. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, a dare un contributo all'Italia, al mondo, per nutrire la popolazione, ma ci vuole più attenzione per i nostri problemi, altrimenti dovremo soccombere. Si è appena concluso il suo intervento, ha sottolineato il fatto che la Camera di Commercio delle Marche ha creduto, ha investito sul settore dell'agricoltura. Sì, è vero, per la Camera di Commercio delle Marche l'agricoltura è un punto fondamentale. È quel mondo che riesce a coniugare all'interno delle proprie produzioni la qualità della vita, la bellezza dei territori, la custodia dei territori. Con l'agricoltura stiamo lavorando molto bene con tutte le associazioni, ma in particolar modo con la CIA abbiamo dei progetti che stiamo portando avanti. Ho ricordato poc'anzi anche la figura del direttore Santi, che è vicepresidente dell'azienda agroalimentare. Azienda agroalimentare di ritorno dalla fiera alimentare di Barcellona, dove per la prima volta gli imprenditori hanno constatato che questa filiera istituzionale tra Regione e Camera di Commercio può essere un valore aggiunto. Abbiamo avuto la possibilità che i più grossi importatori di Barcellona, due, abbiano visitato tutte e sette le aziende che erano lì presenti, più le quattro che avevano mandato i propri prodotti, e hanno preso i contatti con loro. Gli imprenditori erano veramente felici e hanno tutti dichiarato, era la prima volta che vediamo che il Camera di Commercio, Regione e Marche, la filiera istituzionale è al servizio del mondo imprenditoriale. Questo è un ringraziamento che dovremmo fare alle associazioni di categoria, come la CIA, perché grazie anche al loro modo nuovo di vedere il sistema camerale, riusciamo a mettere in campo quelle risorse che possono essere utili per i loro progetti. Non è da dimenticare che la Camera di Commercio delle Marche in questi tre anni ha messo sul tavolo del sistema dell'agricoltura oltre 500 mila euro, proprio su progetti che vanno a valorizzare le nostre produzioni, la qualità, vanno a valorizzare le aziende, vanno a valorizzare i più giovani, vanno a valorizzare anche quelle che vogliono internazionalizzarsi o digitalizzarsi. Sono dei nuovi sistemi e con l'agricoltura penso che riusciremo a mettere in campo insieme alla Regione, al Vicepresidente Carloni, che ringrazio per il supporto che anche lui era presente a Barcellona, ma che sta dando alla Camera di Commercio su queste dinamiche anche dell'agricoltura, penso che ci metteremo in campo su delle nuove progettazioni che ci vedano veramente lidere nei prossimi anni come Regione. Oggi verrà eletto anche un nuovo Presidente regionale, possiamo dire che c'è stata comunque una grande sinergia anche con la Presidente uscente Gattari, quindi un lavoro di squadra? Con Mirella è risaputo che siamo molto molto legati noi due. Una donna eccezionale, una donna che ha lasciato il segno nella CIA, ma ha lasciato il segno anche nelle dinamiche della Camera di Commercio con il suo impeto, con la sua voglia di fare, con la sua voglia di mettere al centro l'imprenditore più che l'associazione. Queste sono delle qualità che Mirella ha sempre avuto e continuerà a averle. Resterà sempre quel punto di riferimento che abbiamo avuto in Camera di Commercio e che io ho avuto come amica in questi anni. Verrà eletto una nuova figura, un nuovo Presidente come tutte le cose e continueremo a avere i rapporti con la CIA come li avevamo prima, pur ricordando sempre che Mirella resterà sempre con noi e la continuerò a tempestare di telefonate per capire come poter essere più utili di quello che noi facciamo. Anche se hai detto che è stato anche bacchettato? Beh sì, tutti conoscono Mirella Gattari, ci sono dei momenti in cui il buon ton lo mette da parte e va su quelle. Ci sono delle dinamiche che molte volte si prendono di altri percorsi. Con Mirella è stata sempre diretta e per questa è una donna eccezionale, non te l'ha mai mandata a dire, ma negli ambienti in cui viviamo associativi devi essere così perché solamente in quel modo riesci a trasmettere quello che veramente in quel momento senti. E non è un demerito ma è un valore aggiunto secondo me. Assessore sempre in prima linea, innanzitutto per il distretto biologico, tra gli obiettivi di far crescere le aziende promuovendo il brand market. Sì, lo scenario che cambia ovviamente rende tutta la programmazione fatta finora quasi da rivedere completamente e la transizione ecologica su cui l'Europa ci vuole portare da mesi rischia di essere un incubo se continuano su questa strada perché mortificano le produzioni, mentre noi invece in questo momento avremo bisogno di aumentare la produzione, aumentare un po' di quell'autonomia di materia prima, di cibo, di foraggi e di tutto quello che serve per l'alimentazione. Quindi la sfida che abbiamo davanti con questa crisi che non è solo una guerra ma è anche la fine della globalizzazione sul piano degli approvvigionamenti vede la nostra regione fortemente impegnata in una strategia di lungo termine e dobbiamo rivedere le politiche agricole, sia regionali che nazionali. In questa ottica puntare su marchi di qualità che possano andare sul mondo nei mercati globali in cui noi possiamo ancora avere dei spazi importanti è una strategia vincente e lo stiamo facendo con tanti prodotti non solo quelli biologici che pure è una grande caratteristica e per fortuna abbiamo fatto in tempo a creare il grande distretto biologico unico delle Marche perché tra qualche settimana esce il bando proprio per i distretti come il nostro quindi abbiamo esattamente intercettato quello che era la strategia giusta ma abbiamo anche da promuovere, come abbiamo fatto con la legge sull'enoturismo e sugli agriturismi abbiamo bisogno di promuovere il nostro territorio, i prodotti certificati e i prodotti gastronomici che saranno la nostra fortuna per difenderci da delle sfide che creeranno un clima abbastanza difficile l'approvvigionamento sarà difficile quindi dobbiamo ripensare alle linee produttive Ho però detto che siete anche pronti all'ascolto C'è stato fino ad ora con la Confederazione Italiana degli Agricoltori un grande confronto costante, continuo, franco, vero, diretto, a volte anche duro ma abbiamo preso delle decisioni anche forti, coraggiose che in passato non si erano prese sempre con l'appoggio delle associazioni perché hanno messo in campo la sapienza e la competenza che serviva Il Presidente ha voluto portare il saluto della Giunta regionale sottolineando l'importanza dell'agricoltura per le Marche Sì, l'agricoltura è un settore prioritario e primario della nostra regione purtroppo per tanti anni è stato un settore ritenuto secondario noi crediamo nell'agricoltura come elemento di riscossa non solo della nostra grandissima qualità della vita e delle nostre eccellenze ma anche di riscossa del nostro paesaggio e un'opportunità per i giovani quindi vogliamo riportare l'agricoltura centrale e vogliamo farlo restituendo ad essa la dignità e la forza che può sprisionare Semplicemente e sinceramente grazie Insieme potevamo fare diversamente? Sicuramente Potevamo fare meglio? Forse Potevamo fare di più? No, assolutamente Abbiamo dato il massimo Sono onorata di far parte di questa meravigliosa famiglia Una lunga relazione, oggi l'abbiamo vista estremamente commossa tanto il lavoro, bella la squadra ora che cosa l'aspetta? Ma intanto partirei da un bilancio Bilancio assolutamente positivo Nonostante tutte le difficoltà, nonostante i problemi da dover risolvere Sono assolutamente felice ma non perché li ha risolti Mirella perché è la squadra che li ha risolti Mirella li ha recepiti e li abbiamo messi sul tavolo e li abbiamo risolti e sono felice perché i soci, gli agricoltori hanno capito davvero il nostro impegno perché sicuramente potevamo fare diversamente forse potevamo fare meglio ma sicuramente non potevamo fare di più perché noi ci abbiamo messo tutto Cosa ci aspetta? Ci aspetta sicuramente un periodo pessimo per tutti gli eventi tragici dal 24 febbraio Sicuramente ma noi siamo riesilienti e noi vogliamo essere la risposta vedi alle problematiche per l'alimentazione alle derate alimentari e noi vogliamo essere la risposta questo come agricoltori ma come associazione noi vogliamo essere anche la risposta per dare welfare per dare tutto ciò che noi ogni giorno facciamo e il prossimo gruppo dirigente avrà tutto il supporto di quello uscente io personalmente posso dire solo grazie e che sia un periodo migliore per voi continuerà comunque a dare il suo contributo all'interno dell'associazione? Sì, le socie, le agricoltrici iscritte alla CIA hanno deciso che comunque sia io debba restare ed essere presidente dell'associazione Donne in Campo in un mondo già come dire problematico di sé come abbiamo detto il mondo femminile ha molte più difficoltà e invece la madre è terra la madre terra è femmina ed è ed ha quella come dire tutto nel DNA noi abbiamo tutta la possibilità della maternità e quindi di far fruttare la terra rispettare la terra dare occasioni con la terra in bocca al lupo e buon lavoro crepi la commissione propone all'assemblea di eleggere Alessandro Tarteia presidente della CIA regionale per acclamazione per questo punto 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 mi chiedo di votare la proposta del presidente regionale pertanto chi sono favorevoli chi sono i contrari chi si astiene posso dire che Alessandro Tanteia è il nuovo presidente regionale dell'assistente regionale Allora io sono felice per chi non l'ha visto, per chi non c'era, di informarvi che quando abbiamo eletto, quando sono stati eletti i tre nuovi presidenti provinciali, Mirella si è permessa di chiamarla, chiamarli vicino e dire questa frase, fino adesso hai avuto a cuore la CIA, Mirella adesso ti mette la CIA sul cuore con la spilla. Peccato che Santi a Pesaro quando c'è stata l'elezione di Sabina, Alessandro gli ha regalato una spilla d'oro e quindi, ma vai a quel paese, il simbolo, e Mirella ha pensato una roba, caro Alessandro io sono davvero felice di chiamarti mio presidente e penso che un simbolo più grande non potevo dartelo. Queste sono le chiavi dell'ufficio. Buon lavoro presidente. Alessandro Taddei, neopresidente regionale della CIA, sono stati sicuramente due anni molto difficili e ora l'attende una nuova sfida. Quali sono gli obiettivi? Sì, come dicevo già la situazione agricola era problematica, sia col Covid che con la guerra le difficoltà e le opportunità di far reddito alle nostre aziende agricole sono diminuite tantissimo, quindi è una sfida che purtroppo si aggrava. Diciamo che già il vecchio presidente uscente Mirella Gattari aveva già spianato una strada. Il gruppo è coeso, sono già diversi anni che lavoriamo insieme, quindi cercheremo di fare il nostro possibile per riuscire a far far reddito alle nostre aziende agricole. Come dicevo, purtroppo la situazione non è delle migliori, però cercheremo di fare il possibile. Quali sono le esigenze degli agricoltori in questo momento? In questo momento, a parte i selvatici, che anche l'anno di chiusura della caccia con il Covid ha incrementato ancora di più i numeri dei selvatici sul territorio. Qualcosina è stato fatto, ma bisogna fare di più, perché le nostre aziende purtroppo non riescono più a sopravvivere alle distruzioni dei selvatici. Come dicevo, si sta facendo qualcosa, però dobbiamo lavorare di più. L'incremento dei prezzi delle materie prime. Il governo ci sta dando dei segnali, però ancora di concreto non abbiamo nulla. Quindi è in più una cosa importante. Purtroppo le nostre aziende agricole sono gli unici imprenditori che non fanno il prezzo di vendita del proprio prodotto. Quindi oggi il governo ci chiede di seminare, di investire a prezzi esorbitanti. Poi però il problema grosso sarà in trebbiatura. I prezzi di oggi saranno mantenuti oppure torniamo ai prezzi di tre anni fa che già non riuscivamo a fare reddito con quei prezzi. Pensiamo oggi con le materie prime che sono raddoppiate. Oltre al caro carburante? Oltre al caro carburante. Questo è un altro di quelle problematiche grosse che il carburante purtroppo anche nelle aziende agricole, anche se siamo esenti da Cise, era il prezzo raddoppiato.